Come fare il veterinario? La Seriana ha ospitato un importante convegno e sarà anche un territorio che farà un po' da capofila, insomma da esempio, per un progetto che punta ad essere nazionale. Come avete accolto questo progetto? Devo ringraziare il dottor Luca Pelliccioli perché quando mi ha presentato questo progetto subito mi ha entusiasmato. Un nuovo modo, una nuova filiera per esaltare le carni della selvaggina. Tanti attori coinvolti in questo nuovo progetto, da università a federcacciatori a tutti i comitati di caccia della zona. Comunità Montana ha dato la disponibilità appunto di organizzare il primo evento, un evento veramente esaltante, che mi ha convinto sempre di più della scelta fatta. Perché non si tratta solo di esaltare le capacità ovviamente venatorie dei cacciatori, ma si tratta appunto di costruire un progetto integrale dove verranno sviluppati appunto le abilità dei cacciatori, con le abilità dei macellai, con le abilità dei ristoratori. Questo ci permetterà appunto di ottenere un prodotto di qualità che potrà valorizzare in toto il nostro territorio nel rispetto però dell'ambiente. Perché la società organizzatrice e soprattutto la società che finanza questo progetto al suo interno ha anche persone che sono molto legate all'ambiente. Un territorio che è stato definito pronto, quindi questo fa ben sperare e rende anche orgogliosi che si cominci da qui. Sì, ovviamente un territorio disposto a ragionare a 360 gradi su tutte le iniziative che possono valorizzare appunto il nostro territorio montano. Ovviamente sappiamo benissimo che è un discorso delicato, ma secondo me è veramente importante perché dobbiamo tornare a pensare che tutto quello, tutti questi tipi di lavori nuovi, dalla caccia alla valorizzazione anche degli alpeggi, alla valorizzazione del nostro territorio, può portare frutti e può portare nuove risorse anche economiche sul nostro territorio. C'è stata la prima presentazione, c'è stato davvero un atteggiamento di apertura e di ascolto di quelle che potevano essere le preoccupazioni e le scetticità che potevano venire dal territorio e dal mondo venatorio. Un progetto nazionale che parte dalla provincia di Bergamo e che coinvolge i cacciatori della provincia di Bergamo. Come avete lavorato e come avete accolto questo progetto? L'abbiamo accolto sicuramente con grande favore, ma anche perché già quando Fondazione Una l'aveva presentato inizialmente, mi pare ormai un paio di anni fa, quando era stata lanciata questa idea, io ero presente e mi era subito parsa un'idea fantastica. Anche perché già c'è stato un cambiamento radicale nel mondo venatorio italiano in questi ultimi anni, proprio perché è cambiato l'ambiente. Siamo passati di fatto da una caccia che era prettamente una caccia legata ai migratori, alla lepre come selvaggina stanziale, comunque a piccola selvaggina e a qualche cinghiale in zona della Toscana, ad un paese con un ambiente particolarmente favorevole per gli ungulati. E così oggi abbiamo una risorsa veramente eccezionale dal punto di vista del patrimonio faunistico, che addirittura non siamo stati ancora in grado di censire esattamente e che stiamo censendo adesso insieme a Legambiente ed insieme a Ispra, ma che apre tutta una serie di prospettive. Ma che innanzitutto ha fatto crescere i cacciatori che si sono dedicati a questa forma di caccia, che oggi soprattutto hanno una maggiore consapevolezza di avere a disposizione e di essere dei privilegiati per poter portarsi a casa capi di una certa selvaggina. E possiamo dire che oggi, che tira sicuramente il bio, piuttosto che addirittura il grass feed nell'allevamento di cui cominciamo a sentir parlare sempre più spesso, io dico la selvaggina, un animale nato e cresciuto in natura, solo con alimentazione naturale, senza mangimi, senza terapie farmacologiche. Cosa c'è di meglio dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista biologico? È un prodotto di prima qualità. Nella università si formano gli chef e i cuochi, invece non è vero. Nella università si forma la figura del gastronomo del terzo millennio, cioè una persona che affronta i temi del cibo e dell'alimentazione in una forma multidisciplinare con un approccio olistico, perché parlare di cibo, parlare di modelli di produzione, distribuzione e consumo di cibo... Un progetto che ha basi scientifiche e che punta al coinvolgimento anche degli istituti che formeranno poi, coloro che parteciperanno al corso. Quindi quali sono gli obiettivi che volete raggiungere? Sì, una formazione di tutti i soggetti della filiera, una formazione condivisa che metta i saperi di ciascuno a servizio degli altri, quindi quelli dei cacciatori in rapporto con il ristoratore o in rapporto con i macellatori, un approccio scientifico per far sì che questa risorsa naturale, come è la carne della selvaggina e degli ungulati, sia sempre più un prodotto di qualità dal punto di vista gastronomico, della sensorialità, sia un prodotto sostenibile perché è un prodotto sano e sia soprattutto un prodotto che ha all'interno un elemento di legalità e quindi di trasparenza. Tutto questo con un approccio scientifico per utilizzare da un lato i saperi tradizionali ma anche le innovazioni che la scienza, la tecnica ci può portare nel controllo delle carni, nel controllo delle sostanze patogene che ci sono nelle carni e dei trattamenti che si possono fare dal punto di vista della ristorazione, anche riprendere sicuramente la tradizione ma anche utilizzare quelle tecniche innovative di cottura o di trasformazione che possono dare nuovo interesse a una ricettistica che non si può fermare solo a tradizione ma che può guardare anche ad una ristorazione del futuro. La fondazione Uomo Naturo Ambiente è una fondazione nazionale, ha responsabili della propria fondazione in tutte le 15 regioni italiane. I fondatori della fondazione sono le associazioni venatorie. Che cos'è Fondazione UNA? Fondazione UNA nasce nel novembre 2015 e mette insieme mondi diversi tra di loro che però hanno intenzione di fare un pezzo di strada insieme. Parliamo di mondo ambientalista, mondo venatorio, mondo universitario della ricerca e mondo agricolo. La nostra idea è che ognuno ha la sua mission, le sue idee ma tutti insieme possono fare un pezzo di strada insieme su determinati progetti e proprio per questo abbiamo iniziato a realizzare cinque progetti a livello nazionale progetti che hanno dei partner importanti come Coldiretti, Legambiente, Federparchi, Simbola Università del Calibro dell'Università del Gusto di Pollenzo e dell'Università Statale di Minalo che sono oggi qui a Clusone per il lancio del progetto Selvatici e Buoni ma anche l'Università di Urbino e l'Università di Napoli oltre che le principali associazioni venatorie nazionali. I progetti più importanti sono quello che facciamo con Federparchi e il Parco Nazionale di Abruzzo per la tutela dell'orso marsicano, un progetto con Coldiretti, con l'osservatorio per il contrasto contro le agromafie, finalizzato sempre alla creazione delle normative quadro in cui inserire il discorso della filiera tracciata della selvaggina e altri progetti con l'Università di Napoli sulla gestione faunistica del territorio a confronto con altre università di altri territori, di altre nazioni europee e in particolare il progetto per cui siamo qui oggi, che ha avuto il kick-off qui a Clusone ovvero la filiera tracciata della selvaggina proprio perché Fondazione Una vuole portare avanti un'idea di tracciabilità, sicurezza all'interno di questo mondo della carne di selvaggina perché l'idea è quella di partire dall'abbattimento attraverso i corretti processi sanitari di controllo fino a portare la selvaggina in tavola. Abbiamo deciso di partire qui da Clusone, da Bergamo perché abbiamo avuto una risposta fantastica dal territorio sia dalle istituzioni locali e tutti i vari stakeholder istituzionali del mondo venatorio quindi siamo particolarmente contenti di partire qui da Clusone speriamo di vederci fra un anno e mezzo e di portarvi i risultati e poter dire un domani da Clusone si è partito per arrivare in tutta Italia a creare la filiera tracciata della selvaggina. Grazie.